E' il 43enne romano Marco Marchionni, il nuovo allenatore del potenza calcio. L'ex tecnico di Novara, Foggia e Carrarese era stato contattato dal club Rosso Blugia nelle scorse settimane a seguito dell'esonero di Franco Lerda. La squadra venne traghettata a conclusione di questo 2023 da Pietro De Giorgio che con l'ultima vittoria contro la Virtus Francavilla e i tre clean sheet consecutivi immaginava forse di rimanere alla guida delle onerampante. Ma le ambizioni di patrono Macchia, senza nulla togliere al giovane promettente trainer che potrebbe rivestire un ruolo diverso all'interno dello staff tecnico, sono quelle di dare una spinta importante ad un campionato che stenta a decollare, nonostante il girone di andata si sia concluso con due punti in più rispetto alla scorsa stagione. Quello che conta in questo momento è dare serenità all'ambiente e continuità a prestazioni e risultati, soprattutto considerando che la vittoria della nuova Red Arena è stato l'unico bottino pieno rimediato in trasferta da Caturano e compagni. La verve e l'esperienza sul campo di un tecnico che, lo ricordiamo, in carriera vestito le maglie di Juventus, Parma, Fiorentina, Sampdoria e che arriva dunque a sedere in panchina con un ricordo ancora fresco di cosa significa scendere in campo davanti ai propri tifosi, sarà stato l'elemento che ha convinto la società lucana ad ingaggiare il terzo allenatore dopo le esperienze fallimentari di Colombo e Lerda. A comporre lo staff tecnico ci saranno l'allenatore in seconda Massimiliano Capriolo, i preparatori atletici Roberto De Luca e Domenico Bronzi, il collaboratore tecnico Daniel Neri, il preparatore dei portieri Alessandro Greco e il match analyst Rocco Rinaldi. Mister Marchionni ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 24-25. Mister Marchionni ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 24-25.